Presto darò un importante ricevimento e voglio da voi un vestito nuovo. Lo vuole tra cinque giorni. Mi raccomando, il vestito è per un tedesco, però deve essere in stile italiano. Nonostante quello si sente su questi tedeschi, almeno Schmidt mi dà lavoro. È un nazista quello lì. Gli alleati sono vicini. I partigiani aspettano l'occasione giusta, è solo questione di tempo. Io voglio far soli mi lavoro. Io e Mauro ci si sposa. Anche lui vuole il suo vestito da te. Ma come gli viene in mente di sposare un partigiano in mezzo alle pompe? È tuo miglior amico e si sposa. No, via, due vestiti insieme non li posso fare. Polino, tendevi a fare qualcosa. Passatevi! Pensi davvero che se avessi potuto fare qualcosa sarei stato lì. Io mi dovrei fidare di te, di uno che fa i vestiti tedeschi. senza capire! La 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 la... La 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 la... Grazie a tutti.